... Che ci fai tu qua? Chi ti ha fatto entrare? Non è poi così difficile. Vabbè, io me ne vado. No, 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 no. Presta, così vedi anche tu di che razza è il nostro Mauro. Un tipo molto educato, come puoi vedere. Sono passato a farti un saluto, non sei contento? Sei venuto a chiedermi altri soldi, scordateli, mi hai già chiesto 3000 euro. Soldi? Sono venuto a chiederti un piccolo conguaglio, mica soldi. Ma so io come ti darò il conguaglio a te. Riccato, per favore. Poi anche tu. Questo uomo mi ha portato via l'unica persona che ho al mondo, mio fratello. Mi ha chiesto di darmi una mano, guarda, guarda, guarda. No, tu non hai chiesto una mano, mi hai ricattato, è diverso. Ma mettiamola così, tu mi hai rubato mio fratello, io voglio solo essere ripagato. E che cosa vuoi ancora? Hai stabilito una città, quanto vale tuo fratello? Per ora 500 euro, giusto per pagarmi l'assicurazione del motorino e altre piccole cosette. Meglio che tu te ne vada. Che Dario non vale 500 euro. Vattene o chiama la polizia. Mauro, vai. Ma non ti preoccupare, ci penso io ad andare a prendere Dario oggi a scuola. Non ci provare. No? Come pensi di impedirmelo? Dottoressa? A presto. Grazie a tutti.